Ciao da Avsim! Lecce-Milan partita della rimonta parziale, partita della beffa da entrambe le parti perché il Milan in vantaggio e doppio vantaggio e in controllo subisce la beffa della rimonta del Lecce che però si ferma sul 2-2 e quindi non c'è la rimonta effettiva totale, il 3-2 clamoroso di Piccoli che è stato annullato giustamente per un pestone sul piede di Ciao che ha condizionato comunque l'azione però andando un po' ad analizzare questo Lecce-Milan 2-2 abbiamo tante cose da dire sulla prestazione sia del Milan ma anche del Lecce perché è stato ancora una volta un ottimo Lecce, quello di D'Aversa che ha dato filo da torcere ai rossoneri in divisa bianca e quindi diciamo che il risultato sotto certi aspetti ci può tranquillamente stare e c'erano anche le avvisaglie c'erano le avvisaglie nel corso della partita che il Lecce poi sarebbe venuto fuori e avrebbe potuto creare dei pericoli prima alcune considerazioni poi passiamo alle statistiche e poi appunto un po' di schermate considerazioni su Pioli, sulla gestione di Pioli da parte della dirigenza ma anche da parte del tifo rossonero e da parte dei giornalisti io ho visto tifosi del Milan rispondere alla notizia di ieri sera Pioli è confermato con allora si tifa contro quindi si può fare, mi dicono dalla regia milanista che si può fare, si può tifare contro al Milan si può fare i tifosi del Milan dicono se questa dirigenza conferma questo Pioli in questo momento allora tifiamo contro nel senso speriamo di perdere così lo cacciano quindi si può fare, si può fare, bene, registro questa cosa tra l'altro a livello giornalistico ma non è la prima volta i giornalisti che seguono il Milan non hanno nessun timore nel criticare Pioli non c'è nessun timore, la squadra gioca male e si analizza la partita se emergono delle responsabilità di Pioli lo si dice, tranquillamente anche a caldo appena finita la partita e anche prima di andare poi a fare le interviste in conferenza stampa che magari potrebbe essere una cosa vista come indelicata non scriviamo nulla e aspettiamo di intervistare Pioli e magari scriviamo insieme anche alle sue risposte un resoconto no, semplicemente si ha l'impressione che il Milan abbia fatto una brutta prestazione o un brutto risultato anche per colpe di Pioli lo si dice, lo si scrive tranquillamente cosa che in ambito Juve non si vede da anni, sono anni, forse con Sarri forse con Sarri ci si affrettava ad esprimere giudizi negativi sull'allenatore appena finite le partite per il resto non si può mai dire, non ci sono mai delle responsabilità dell'allenatore quindi mi sembra molto più sereno, o meglio, sereno nei presupposti l'ambiente Milan poi ovviamente la serenità non c'è, perché risultati che vanno e che vengono prestazioni che vanno e che vengono, tutto poco convincente, tutto poco soddisfacente tanti difetti, tanti problemi e non sembra che ci siano grossi cambiamenti però registriamo questa cosa, i tifosi sono svezzati, possiamo dire gli giornalisti sono sinceri, dicono quello che pensano senza remore lo si può fare in ambiente Milan la dirigenza però che cosa dice? Pioli è confermato, il che vuol dire che non è confermato perché se la dirigenza deve dire dopo Lecce-Milan Pioli è confermato vuol dire che c'è una domanda chi te l'ha chiesto? Chi ti ha chiesto di confermare Pioli? se si dice Pioli è confermato vuol dire che si stanno facendo la domanda ora la situazione dirigenziale del Milan è un po' complicata c'è Cardinale che ha incontrato Furlane, ha incontrato Ibrahimovic insomma si parla di tante altre cose questo potrebbe essere un problema in questo momento per gestire la situazione, per capire cosa fare come sapete per me è indifferente naturalmente se Pioli resta o se ne va ma capisco, supporto e sostengo i milanisti che dicono Pioli out così come ho supportato e sostenuto i napoletani che dicevano Garci out fossi anche io in disaccordo ma avete e dovete avere il diritto di dire questo se lo pensate detto questo un pochino di statistiche poi andiamo a vedere poi andiamo un po' appunto a mostrare qualche immagine ecco però ho un problema di visualizzazione allora un attimo prima risolvo il problema di visualizzazione che non so come perché qui abbiamo avuto un ingrandimento della grafica ok perfetto cose che non state vedendo è il bello della non diretta mentre sto registrando ma andiamo a vedere prima un po' di statistiche dicevo poi così possiamo vedere le schermate allora le statistiche sono 1,48 XG Milan 1,92 Lecce 1,48 1,92 e credo che non sia conteggiato il palo clamoroso del Lecce che era in fuorigioco quindi partita da 2-2 sostanzialmente con il Lecce qualcosa in più entrambe le squadre hanno fatto 6 tiri nello specchio ma il Milan ha tirato solo 10 volte e il Lecce 13 quindi il Milan è stato più preciso però ha creato meno il Lecce ha creato di più con minore precisione nel rapporto tiri in porta su tiri totali i passaggi sono stati 100 in più quelli del Milan circa con una precisione come sempre come sempre il Milan alta 85% circa 82 il Lecce le statistiche poi approfondite le andiamo a vedere come sempre nel prossimo episodio di Serie A Stats che uscirà comunque martedì anche se la Serie A finisce oggi però domani tra le tantissime cose da dire e da fare non ho tempo di preparare il nuovo episodio quindi uscirà martedì grazie ai dati Wisecout che sto adesso leggendo e quindi se volete entrare in Wisecout c'è l'email da contattare nella descrizione sotto questo video possesso Milan 55 a 45 pochi cross in tutta quanta la partita più o meno lo stesso numero una ventina 21 a 19 tocchi in area avversaria tra le due squadre Milan 21 Lecce 19 quindi è stata una partita molto equilibrata il Lecce ha giocato veramente molto bene adesso andiamo a specificare anche in che termini sostanziale parità nei duelli mentre nettamente tranne i duelli aerei dove è andato molto meglio molto meglio il Milan la precisione del Milan naturalmente nella progressione nell'andare in avanti è stata è stata più alta anche se ha previsto il Lecce per quanto riguarda la precisione nei passaggi progressivi quindi quelli che servivano a guadagnare campo il ritmo di gioco è stato più o meno pari leggermente meglio il Milan che ha fatto anche una minore percentuale di lanci lunghi ed è riuscito a tirare da una distanza più breve rispetto alla linea di porta e entrambe le squadre sono state molto aggressive il PPDA del Milan è stato fantastico 6 e 33 ma quello del Lecce niente male 9 e 26 assolutamente tra l'altro il Milan veniva da un 22 e 69 di PPDA con il PSG ecco e veniva da un 4 e 84 contro l'Udinese dove ha perso quindi questo per dire che cosa per dire che evidentemente il Milan è in una situazione un po' di crisi di identità ci si adatta un po' all'avversario si gioca un po' come si si prova a giocare in un certo modo si gioca un po' come si riesce ma non c'è una identità convincente di gioco in questo momento che con dei valori e con delle qualità che poi portano ad un'efficacia dal punto di vista del risultato andiamo allora a vedere un po' di schermate che sono andato ad estrapolare vediamo per esempio proprio all'inizio intanto comunque l'aggressività del Lecce questo breve break d'attacco del Milan per vedere subito comunque un Milan posizionato ancora stava scorrendo sotto la grafica con la formazione già al secondo minuto questa riconquista del pallone lì a centrocampo con un tentativo subito di andare praticamente ad attaccare vedete i posizionamenti per esempio Reinders che si trova lì molto alto ma questo lo vedremo meglio più avanti poi invece vediamo pochi secondi dopo si perde il pallone Lecce prova ad impostare e l'aggressività del Milan è molto buona Pobega che secondo me ha fatto una buonissima partita sale subito alto ad accompagnare quindi qui che c'era ancora Leao in campo ecco poi bisognerebbe parlare degli infortuni comunque mi sembra che il Milan sia posizionato bene per andare ad aggredire alto il Lecce vediamo poi come ha attaccato il Milan all'inizio vedete Pobega che va a occupare l'aria insieme a Giroud c'è Leao a supporto c'è Ciocqueze qui c'è stata anzi qui tra l'altro si fa una bella trama Reinders Giroud Giroud sta andando verso Reinders e c'è comunque questo gioco corto dentro l'area quindi c'è il centrocampista ci sono i centrocampisti che si avvicinano all'area di rigore e trovano gli scambi corti con le punte su questo una buona fase d'attacco a differenza per esempio come ho detto nel precedente video dell'Allegrentus che sembra veramente non avere delle soluzioni dignitose in attacco mentre il Milan riesce appunto a fare anche tante giocate strette corte con il coinvolgimento un po' di tutti i giocatori trovando degli ottimi spazi qui vediamo al quarto minuto l'aggressività ancora del Milan e anche i posizionamenti perché questa vedete era una fase diciamo di possesso in questo caso di possesso del Lecce però c'è questa aggressività in avanti la linea di difesa è piuttosto alta e come vedete ci sono due giocatori oltre la linea della palla e ce ne sono altri tre molto vicini quindi anche qui buoni posizionamenti molto buoni grandi aggressività aggressività che si vede anche in quest'altra schermata pochi minuti dopo qui però vediamo il Lecce che riesce a verticalizzare Bandà che è stato molto utile molto bravo nell'attaccare e nel dare soluzioni e il Lecce infatti vediamo che nelle prossime schermate vedremo come il Lecce comunque sa ha saputo attaccare bene e costruire bene per esempio in una situazione come questa pochi minuti dopo pochi secondi dopo vedete che quella stessa linea da tre che abbiamo visto prima eccola rivediamo Ciukwes Krunic Reinders qui invece abbiamo Reinders Krunic con Pobega con Ciukwes che è passato avanti però abbiamo la stessa linea a tre che evidentemente viene proprio studiata da Pioli come argine e però il Milan è stato costretto a ribassarsi il Lecce ha portato a parte i giocatori diciamo più lontani ma comunque la difesa è nella metà campo del Milan comunque ha portato almeno sei giocatori tutti vicino alla tre quarti e ha diverse soluzioni di gioco infatti il Lecce ha credito ha attaccato tanto ha giocato con una buonissima intensità ha altri ritmi a mio avviso è stato il Milan a seguire l'intensità del Lecce e non il contrario a dettare i ritmi è stato praticamente il Lecce poi vediamo però l'azione anche un'azione d'attacco un'azione d'attacco del Milan qui con questo questo dispiegamento in avanti e vediamo ancora una volta come il Milan ha attaccato con grande con grande intensità con grande partecipazione numerica sostanzialmente quindi una una penetrazione con conduzione di palla abbiamo già Pobega e Reinders sulla tre quarti Giroud che sta guardando il pallone per cercare di fare il movimento anche per smarcare Ciukweze e c'è Okafor che era da poco entrato al posto di Leao infortunato che comunque rappresenta anche un'altra soluzione e se vogliamo ci sono Krunic e Teo che possono accompagnare dietro quindi nelle transizioni il Milan tendenzialmente bene qui abbiamo l'azione del gol del vantaggio che nasce da una rimessa laterale Teo batte la dà a Okafor che la dà scambia ancora di prima sempre per Teo si va dentro e arriva il gol del vantaggio dell'1-0 del Milan con Giroud e quindi buoni posizionamenti da una rimessa laterale si può fare una triangolazione e si può andare a segnare sostanzialmente non tutte le squadre sono di questo avviso per essere chiari sul 1-0 poi però il Lecce si fionda in avanti ancora qui vediamo come il Milan non è che abbia sofferto ma ha dovuto ha dovuto ripiegare spesso dietro ha dovuto fare una certa densità ha dovuto anche abbassarsi a volte per contenere l'azione del Lecce dopo infatti vediamo una situazione emblematica su un rimbaltamento di fronte però nel secondo tempo e quindi qui abbiamo giocatori molto dinamici che sono stati in questa partita Reinders e Pobega a mio avviso ma anche Teo che si trova in questo caso sulla fascia praticamente opposta si trova appunto a contenere questa iniziativa del Lecce con tanti uomini ancora una volta in attacco e poi siamo ad una situazione immediatamente successiva al 2-0 di Reinders e praticamente è stata una situazione fotocopia perché di nuovo in un ribaltamento con una verticalizzazione il Milan si è trovato in ripartenza anche se in inferiorità numerica anche con il gol di Reinders Reinders è stata molto passiva alla difesa del Lecce non è uscito nessuno a chiudere perché comunque c'erano tanti uomini del Milan quindi non era neanche facile in questo caso però Reinders sbaglia perché ha la soluzione di passaggio con di fianco anche Okafor che gliel'ha detta ma decide di tirare e quindi mi pare che conquisti corner in questa situazione ma comunque nulla di straordinario che poteva fare meglio forse ha pensato ho segnato una volta posso farlo di nuovo e invece occasione sprecata occasione comunque ci sono state però come abbiamo visto i tiri in porta poi non sono stati tantissimi e qui vediamo invece come purtroppo l'immagine è un po' sfumata perché è stato un ribaltamento molto veloce qui c'è stato praticamente un taglio un ottimo passaggio di un giocatore del Lecce da centrocampo un passaggio in diagonale perfetto a scavalcare a penetrare proprio a scavalcare la linea di difesa ed ecco qui un ottimo pallone in posizione regolare per poter mettere dentro un cross e ci sono già tre uomini che stanno andando ad aggredire la linea per entrare in area di rigore davvero un bellissimo Lecce con tantissime soluzioni d'attacco e siamo ancora sul 2-0 per il Milan a fine primo tempo andiamo invece nel secondo tempo e ancora una volta vediamo la grandissima aggressività del Lecce qui andrà a fare fallo Rafia ci sono stati diversi falli proprio per questa aggressività falli anche cercati da chi li ha subiti proprio per evitare di perdere il pallone e parlo in particolare del Milan in tante situazioni il Milan cercando di rifiatare o di rallentare per attenuare un po' la pressione del Lecce si è fatto fare fallo qui Rafia va a fare fallo Rafia ha fatto un'altra ottima partita probabilmente non per 90 minuti poi è stato sostituito da D'Aversa qui va a fare fallo su Reinders ma c'è stata una grossa difficoltà di manovra qui sotto pressione Pobega che vedete si trova defilato c'è Krunic che ha appena passato il pallone a Reinders e cerca di dettare il passaggio ma c'è un accumulo di giocatori del Lecce davvero molto molto interessante con la difesa molto alta e qui vi dicevo il ribaltamento di fronte poi abbiamo altre due schermate soltanto qui il Milan ha attaccato con un buon forcing di uomini però guardate la staticità tutti fermi c'è solo Pobega che testa bassa stanchissimo tra l'altro c'è un frame poco dopo che fa vedere Pobega che corre all'indietro boccheggiando solo lui sta già pronto è già pronto a tornare indietro in alto intravediamo Okafor ma non è così pronto a ripiegare dietro Krunic che percepisce il pericolo ma d'altra parte era l'ultimo ad essere salito dopodiché c'è se non vedo male Reinders statico Giroud statico dall'altra parte Ciuquez è statico Teo che forse inizia a muoversi per tornare indietro però il portiere del Lecce sta già dando il pallone con le mani al giocatore libero nello spazio e qui c'è una totale spaccatura perché c'è stata una fase da parte del Milan proprio prima dei due gol del Lecce in cui il Milan è stato nettamente spaccato in due tronconi in diverse situazioni e qui ecco allora che c'erano già le avvisaglie dei gol del Lecce Pioli non è intervenuto Pioli non è intervenuto perché Pioli fondamentalmente a parte il cambio all'intervallo con Musa che è entrato secondo me piuttosto male al posto di Calabria non è che si è intervenuto a rendersi conto che forse nonostante il 2-0 c'era bisogno di dare un po' di freschezza e infatti qui vediamo proprio la situazione intanto già in questo caso ha segnato ha segnato il Lecce e qui vediamo una palla persa mi sembra che questo sia proprio potrebbe essere proprio la riconquista del pallone che porta poi al 2-2 sì dovrebbe essere questa la riconquista del pallone che porta al 2-2 esatto perché Lecce segna 2-1 su corner tra l'altro un corner dove segna Sansone come aveva segnato Scrinner quasi come aveva segnato Scrinner col Paris Saint Germain quindi c'è un problema di marcature su corner per il Milan qui si perde il pallone questo è Musa si perde il pallone su questa pressione e va a fare il 2-2 in Lecce ma guardate l'aggressività del Lecce guardate come ci hanno creduto nell'andare a riconquistare il pallone per cercare di riconquistare anche la partita e questa schermata che ho voluto estrapolare sul 2-2 per far vedere le difficoltà di un Milan stanco arrembante e caotico perché insomma siamo all'ultimo minuto poi ci sarebbe stato recupero però le distanze tra i giocatori sono eccessive tutti rivolgono le spalle al pallone c'è Pobega che sta aggredendo mi sembra sia Pobega che sta aggredendo l'area di rigore spalle al pallone Reinders spalle al pallone Florenzi troppo distante e inutile e gli unici che guardano sono Okafor e Giroud che però sono molto distanti quindi in questo caso Musa prova il cross e non ne viene nulla nulla di significativo e servirebbe invece sarebbe servito probabilmente continuare ad avere delle soluzioni di triangolazione delle soluzioni più vicine di scambio corto di costruzione corta come si erano avute nel primo tempo ed avevano funzionato a un certo punto si è mollata questa soluzione e quindi poi il Milan non è riuscito ad essere assolutamente pericoloso nel finale con addirittura il gol beffa del 3 a 2 poi giustamente annullato dicevo bisognerebbe parlare anche degli infortuni ma semplicemente senza poter fare una vera e propria analisi vado in chiusura e dico soltanto che evidentemente come anche Pioli ha riconosciuto c'è un problema di infortuni muscolari che non dipende solo dalla sfortuna si è fatto male adesso anche Leao e quindi è un Milan che è in situazione di difficoltà come ho provato a dimostrare da questa breve analisi da questo commento di Lecce e Milan c'erano le avvisaglie di un Lecce pericoloso c'erano le avvisaglie di un Milan stanco il Lecce ha assolutamente legittimato il pareggio e forse avrebbe potuto anche vincerla non avrebbe rubato nulla al di là poi dell'espulsione ci sarebbe anche da parlare dell'espulsione di Giroud ma Giroud ha perso la testa senza una valida ragione perché lì c'era un tocco di braccio ma non è che c'era rigore per il Milan c'era un tocco di braccio evidente l'arbitro non lo vede sbaglia l'arbitro c'era calcio di punizione per il Milan non c'era da scaldarsi così tanto probabilmente segno appunto di nervosismo segno di una situazione particolare una situazione negativa dall'altra parte bisogna fare i complimenti ad Aversa per l'ottimo lavoro che sta facendo i giocatori del Lecce hanno fiducia mi sembrano i giocatori del Frosinone Lecce e Frosinone si somigliano da questo punto di vista allenatori bravi che si impegnano che lavorano bene i giocatori mostrano autostima e fiducia per l'allenatore quindi si giocano delle ottime prestazioni con grandi aggressività anche contro grandi avversari con ottime soluzioni d'attacco ottime soluzioni di gioco e anche i dati lo dimostrano chiudo e vi saluto vi ringrazio per l'attenzione a questo video di commento a Lecce Milan buon dibattito nei commenti e anche su Discord link in descrizione con tanti spazi per parlare di calcio iscrivetevi al canale e attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi contenuti mettete like e condividete questo video se vi è piaciuto abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi e seguitemi pure su Absim Out il mio secondo canale YouTube ci vediamo molto presto e per il calcio senza compromessi sempre Allegri Out grazie a tutti grazie a tutti